Il Comitato Acqua Pubblica lancia una nuova campagna volta alla trasparenza e alla chiarezza sulla gestione del servizio idrico a retino. Dopo che lo scorso 20 novembre l'amministrazione comunale Nuove Acqua avevano tenuto una conferenza stampa per presentare le novità in vista del 2017 riguardo alle tariffe. E proprio riguardo alle riduzioni in bollette e alle agevolazioni per i nuclei familiari numerosi, il Comitato ha voluto puntualizzare alcuni dettagli. Siamo andati a leggere per bene le carte e abbiamo visto che si tratta solo in gran parte di annunci farlocchi. Praticamente il ribasso delle tariffe, il dimezzamento della quota fissa, l'introduzione di agevolazioni per le famiglie numerose, sono tutte misure a fatto insufficienti e che tendono a forviare e a disorientare i cittadini pensando, illudendoli del fatto che magari nel 2017 le tariffe diminuiranno. Visto che l'hanno annunciato a fine anno adesso, il problema invece è l'esatto contrario. A parte una modesta fascia di consumi, il resto viene tutto aumentato. I dati che sono stati elargiti, erogati durante la conferenza stampa, rapportati e raffrontati con quelli del Comitato Acqua Pubblica e quello che abbiamo analizzato con loro, sono completamente diversi. Chiaro che la situazione non può continuare così. La costituzione di un fondo per i nuclei familiari con più di quattro figli in aggiunta alle agevolazioni già previste per gli utenti con isa inferiore a 8.030 euro rientra tra gli annunci di nuove acque. Noi non chiediamo, non abbiamo mai chiesto agevolazioni. Di fatto agevolazioni, il provvedimento che è stato presentato, non le ha per le famiglie numerose. Noi abbiamo posto l'attenzione a questo problema della tariffazione che porta a delle cifre esagerate. Quindi si tratta di fare e di studiare, come anche sanno benissimo tutti gli attori della vicenda, un'articolazione che non punisca, che non penalizzi le famiglie numerose. Perché? Perché è vero che consumano di più, inevitabilmente, essendo in più componenti. Ma il concetto è che l'acqua deve costare uguale per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.